oh giovani amici di facebook oggi vi faccio vedere una roba che ho trovato mentre giravo per una delle tante catene che ci sono un euro media world quella che vi pare e quando sono in queste catene spesso mi capita di pensare beh qualcosa devo comprare non è che posso andare via senza comprare niente ovviamente in cauto acquisto è proprio inevitabile solitamente me la cavo con un mouse sono un feticista dei mouse però sto giro perché sta attorno ai 20 euro che è un po il budget che che mi do in questi casi e sto giro noto questa assurdità questa questa cosa stranissima cioè questo bundle mi rappresenta sugli scaffali insieme altre versioni diciamo che con 25 euro ti portavi a casa la trilogia del cavaliere oscuro più un nano drone andiamo ad aprirla così vi faccio vedere cosa c'è dentro e soprattutto vado a provare questo fotovolico drone allora dentro c'è il cofanetto che vi confesso già tirato fuori che mi sono guardato durante il weekend c'è uno spaziatore poi ci sono i tre film non sto a tirarveli fuori comunque il primo batman begins disco singolo le altre due addirittura sono disco doppio con anche contenuti speciali quindi insomma alla fine più che onesta 25 euro li verrebbe già questo cofanetto però come vi dicevo in più c'è anche sta roba qua che di solito è venduta da sola attorno ai varia tra i 15 e i 40 euro varia un varia moltissimo negli store online cinesi per intenderci tiny deal banggood e compagnia sta attorno ai 15 euro su amazon l'ho visto tra i 30 35 euro il suo prezzo di stile attorno ai 25 comunque fatto sta che a 25 euro questo più il cofanetto che vi appena fatto vedere ripeto è una mega bar da ora dentro la scatola età 14 più performance di volo di alto livello addirittura tre modalità d'uso dopo vi spiego come per utilizzo interno dell'esterno in assenza di vento chiaramente è più indicato l'utilizzo interno non la ricarica è via usb si possono fare acrobatiere di vario tipo giroscopio stabilizzatore a sei assi a 4 luci led due frontali e due posteriori e quelle frontali blu e quelle posteriori rosse così capisce anche come è girato perché un quadrato perfetto il drone e telecomando a 2,5 a 2,4 gigahertz a 4 canali anche questa ottima cosa perché non è non subisce interferenze da da reti wifi o cose del genere allora tra l'altro è la versione black edition limited dentro al packaging che era incluso c'è il drone in sé che è veramente microscopico lo vedete è 4,2 x 4,2 cm e alto 2,2 cm e pesa solamente 12,3 grammi vado ad aprirlo allora una volta tirato fuori dalla scatola al fine alla fine il contenuto è tutto quello che vedete qui cioè il telecomando famoso da 2,4 gigahertz che poi è quello che è necessita delle due batterie mi stilo a non sono incluse per cui dovete procurarvele voi il drone in sé a 4 eliche più il chip interno con diciamo il giroscopio a 6 assi più una batteria interna che serve a far andare le eliche ovviamente da 100 mila ampere quindi molto piccola che offre un'autonomia attorno ai 5 minuti e si ricarica in 12 minuti è veramente un giocattolino in super plastica all'interno della confezione ha fornito anche il cavo di ricarica osb peccato che non abbia una connessione standard tipo una micro sb ma abbia questo cavetto proprietario che si va a infilare appunto dentro il drone e oltre a questo il drone ha anche un tasto di accensione e spegnimento ecco qua allora il telecomando ha veramente una valanga di tasti non me l'aspettavo è super completo è chiaramente un plasticone è sembra un giocattolo in realtà come dice tecnologicamente abbastanza avanzato perché trasmette a 2,4 gigahertz quindi questo gli permette di non essere influenzato per esempio dalle reti wifi casalinghe o da altri telecomandi simili in più a una valanga di controlli abbiamo due levetti principali quella di sinistra è l'acceleratore quindi serve fondamentalmente ad alzare e a far scendere il drone oppure a far ruotarlo in senso orario e anti orario in questa maniera qua come vedete però torna sempre in mezzo perché la funzione principale è questa qua su e giù quella di destra invece è quella di controllo principale se si muove in tutte le direzioni se muovere il drone appunto nelle quattro direzioni sinistra destra avanti e indietro poi ci sono due trimmer frontali uno destro e uno sinistro ognuno con quattro tasti due tasti quindi quattro tasti in totale quello di sinistra serve alla regolazione fine del movimento sinistra destra e quello di destra ha sempre la regolazione fine del movimento avanti e indietro poi abbiamo anche due tasti qui accessori quello di destra serve per cambiare la modalità di comando del drone cioè in soldoni in realtà la sensibilità dei comandi sono tre modalità una beginner intermediate e advanced appunto più si sale come difficoltà di controllo più aumenta ovviamente la sensibilità dei controlli l'altro tasto invece serve a fare le acrobazie e appunto comando al drone di fare un flip a quanto pare vedremo se funziona o no oltre al drone e al telecomando nel nella confezione sono incluse anche ben quattro eliche di ricambio chiaramente le eliche sono la cosa che si romperà prima in questo nano drone si potrebbero piegare in quel caso basta riadrissare ma si potrebbero anche rompere o piegare troppo in quel caso basta sostituirle con una delle quattro incluse nella confezione all'interno della confezione ovviamente fornito anche un manuale d'uso in italiano in inglese abbastanza completo che vi spiega come accendere il drone come comandarlo come riregolare l'accelerometro nel caso si sfasi eccetera 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 è tutto in italiano è anche abbastanza chiaro mi sembra fatto molto bene allora proviamo a mettere in moto questo drone da quello capito bisogna prima di tutto mettere al minimo diciamo il gas sul telecomando poi si accende il drone comincia a lampeggiare come vedete a questo punto accendiamo il telecomando poi lo portiamo al massimo e di nuovo al minimo ecco ha fatto questo bip a questo punto il drone è pronto a partire in teoria quindi io alzerò un po il gas a partire in teoria pilotare il drone come immaginavo è tutto meno che facile diciamo il giroscopio interno tanto millantato probabilmente presente però insomma fa il suo lavoro fino a un certo punto il telecomando ha tutti i controlli diciamo come un drone vero ma chiaramente ha una risposta alla sensibilità molto diversa e sicuramente anche io sono un mongoloide totale a pilotare droni per cui non faccio assolutamente testo comunque fatto sta che non è certo il drone che prendi e fai volare da solo dopo pochi minuti serve tanto esercizio per riuscire a farlo volare decentemente la cosa molto positiva però devo dire che il drone c'è il nano drone in sé è super resistente mi è caduto decine di volte non si è fatto nulla e quattro motori funzionano ancora insomma trovato in bundle questo cofanetto del cavaliere oscuro con i con i tre film di nolan più questo nano drone colibri a 25 euro mi sembra veramente un prezzone e il colibri lo trovate anche da solo tra i 15 e i 35 euro più o meno vi lascio i link in descrizione che trovate qui sotto o ai lati se vi è piaciuto il mio video e gli altri incaut unboxing fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di incaut unboxing ciao ragazzi